Oh, finalmente posso vedere The Batman, ho anche la maglietta giusta, non vedo l'ora! Peccato solo che... Che sai già cosa sto per dirti! Ecco, appunto. Ma io dico, ma proprio a me devi sempre venire a rompere le palle? Beh, se tu ti abbonassi non avrai niente per cui romperti le palle. E poi diciamocelo, fai tanto quello che ama Batman e la giustizia e poi sei il primo ad aiutare i delinquenti che cercano di bucare la sicurezza del tuo PC. E da oggi comunque NordVPN ha anche la Threat Protection. La che? La Threat Protection si attiva direttamente dall'app e alla protezione anti-malware che blocca i siti e i file dannosi, blocca i cookies di tracciamento così puoi navigare senza lasciare traccia e blocca anche i pop-up e le pubblicità invasive. Sì, va bene. E quindi? Insomma, per dirle in modo che anche un brady può celebrare come te possa capirla NordVPN di base ora è il Batman delle VPN. E poi lo so che tu navighi così tanto sui siti porno che la Threat Protection ti serve. Ma come ti permetti? Ma smettile che hai un gomito del tennista che nemmeno Nadal. Comunque vai su nordvpn.com slash victorvpn, link che trovi anche in descrizione qui sotto, per avere il piano di due anni più un mese gratis e la possibilità di vincere un mese, un anno, due anni in più di abbonamento. Ma credi veramente di fregarmi con questi mezzucci? Però, cioè, davvero è il Batman dei VPN? Come prende a calci nel culo i malware NordVPN grazie alla Threat Protection? Non lo fa nessuno. E poi lo puoi collegare fino a sei dispositivi e ti connetti con un click garantito. Ma... ma sai che è quasi quasi... Perfetto! Ora scusami ma devo andare a convertire altri infedeli come te. Goditi il film, caro. Lo farò, grazie. Dai, stavolta è stato quasi gentile. Mi ha anche mandato una mail con... uno spoiler sul finale di The Batman. Io lo ammazzo, quella testa di c... Slog, allora, finalmente posso parlare di un film che stavo attendendo con un'ansia incredibile e ammetto che avevo delle aspettative molto alte e è strano per me perché io sto cercando negli ultimi tempi di contenere le mie aspettative perché andare a vedere un film aspettandosi il filmone della vita secondo me non è proprio la cosa migliore. Però non ci posso fare niente. Adoro il personaggio in questione e quindi non vedevo l'ora di godermi questa nuova trasposizione in sala. ringrazio Cultura Pop per avermi permesso di assistere l'anteprima di martedì scorso quindi l'ho visto qualche giorno fa e questo video lo vedrete di giovedì perché ho pensato che parlarne prima dell'uscita effettiva non avrebbe avuto senso. Quindi mi riferisco a un film del 2022 per la regia di Matt Reeves ed è The Batman. The Batman è uscito oggi, giovedì 3 marzo, in Italia quindi credo che molti di voi saranno già andati a vederlo e quindi staranno vedendo questo video dopo aver guardato la pellicola però so che molti magari non possono vederlo fino a domenica o fino a settimana prossima quindi in questa prima parte come sempre non ci saranno spoiler e poi nella seconda invece andrò più sullo specifico. Lo dico perché poi tante persone arrivano nei commenti a chiedere ma ci sono spoiler? Come sempre, la prima parte è senza, la seconda invece li avrà. Io adoro Batman, lo sapete è il mio eroe preferito non dico supereroe perché di fatto non è un supereroe ma è proprio questo il bello è alla pari di tanti altri supereroi pur non avendo superpoteri ha solo tanta perseveranza e risorse pressoché illimitate che sa bene come utilizzare. Io ero gasato perché nonostante molti ritenessero che questa nuova trasposizione non avesse senso a me intrigava molto perché tanti pensavano che questa trasposizione non avesse senso perché non troppi anni fa abbiamo avuto i tre Batman di Nolan recentemente abbiamo visto Ben Affleck vestire pane dell'uomo pipistrello sebbene la versione proposta a Zack Snyder di Batman a me non sia mai piaciuta secondo me Snyder non ha assolutamente capito il personaggio e Ben Affleck era più adatto come Bruce Wayne che come Batman quando era in costume a Batman non mi convinceva assolutamente come Bruce Wayne invece aveva la faccia giusta ora tocca a Robert Pattinson interpretare Bruce Wayne e Batman e io mi chiedevo chissà come lo avrà interpretato chissà come è stato scritto il film io di Matt Reeves mi fido parecchio lui è il regista di Cloverfield di Apes Revolution e The War i film dei pianeti delle scimmie non l'albero del pianeta delle scimmie quello non è suo ma il secondo e il terzo sì e secondo me erano veramente ottimi è un regista che ti prende un blockbuster creato per la massa e te lo trasforma in un film con dei toni molto autoriali per cui quando io ho saputo che Matt Reeves avrebbe realizzato un film su Batman io ho pensato subito wow potrebbe essere la persona giusta è anche molto bravo da un punto di vista registico quindi non vedevo l'ora di guardarlo ora che l'ho visto posso dire che il film è veramente ma veramente spettacolare per quanto mi riguarda è riuscito a comprendere veramente a fondo il personaggio di Batman che può essere rielaborato come si vuole si può proporre in ogni film un Batman diverso ed effettivamente è stato così finora i film di Burton che sono dei capolavori assoluti proponevano un Batman calato in un ambiente molto fumettistico quasi cartunesco a tratti quelli di Nolan invece proponevano una rilettura pseudo realistica il Batman di Snyder era un Batman molto travisato un Batman che non si faceva grossi problemi uccidere o mandare a morte le persone e questa cosa a me non piace io non sono per il non far mai uccidere nessuno a Batman perché Batman e fumetti non uccide se mi fai un Batman che uccide e c'è una specifica ragione dietro ma deve essere veramente ben congegnata allora a me può anche stare bene sinceramente nel caso del Batman di Snyder non era ben congegnata per quanto mi riguarda qui abbiamo un Batman ancora diverso che si muove in una Gotham City marcia e corrotta ma soprattutto è il Batman più fumettistico che abbia visto al cinema perché dico questo? sembra un'affermazione che va a cozzare con quello che il film propone perché effettivamente se voi date un'occhiata ai trailer sembra che abbia un tono ancora più realistico rispetto ai film di Nolan è la prima cosa che ho pensato anch'io in realtà è un film che attinge a piene mani a livello di atmosfere più che a livello di svolte di trama perché la storia è diversa da albi che io adoro come Il Lungo Halloween Batman Ash o Città Spezzata che sono tra le storie più belle perché sono quelle più investigative dove Batman deve risolvere un dato mistero un dato crimine e inizia a interrogare a incontrare vari personaggi che caratterizzano il mondo in cui si muove ecco hanno fatto una cosa molto simile a quella e da un punto di vista della trasposizione c'è tantissimo del fumetto il fatto che sia fumettistico però non lo accomuna a quelli di Burton perché quelli di Burton avevano un tono fumettistico che però non era il tono fumettistico dei fumetti di Batman era un tono fumettistico generico si vedeva che era molto fumettoso come modo di trasporre con questi momenti assolutamente grotteschi sia nel primo che nel secondo il Joker nel primo era molto grottesco il pinguino di De Vito era ancora più grottesco perché era proprio una sorta di mutante che viveva nelle fogne non era un gangster con un aspetto particolare e basta non era proprio un gangster in realtà se vogliamo stare a guardare quindi il discorso qua è che Matt Reeves ha saputo prendere le atmosfere di alcune delle storie tra cui quelle che ho citato con protagonista Batman e mettere sullo schermo d'arte una dimensione fumettistica che però da un punto di vista delle immagini è molto realistica perché in effetti i fumetti di Batman sono così la componente fumettistica poi rompe con personaggi bizzarri e quant'altro però a livello di luoghi in cui si muove a livello anche di immagini Batman ha un certo realismo nella messa in scena è molto crudo anche molto spesso nelle sue rappresentazioni e infatti questo The Batman di Matt Reeves è esattamente questo l'ambientazione è super realistica ma poi abbiamo un'atmosfera fumettistica che a me è piaciuta da morire ma molto di più di quella che si respira nei film di Nolan e quindi in virtù di questo io penso che in futuro potrebbero riuscire a inserire dei personaggi che sono effettivamente meno realisti come ad esempio Mr. Freeze per dire se lo adatti un po' lo puoi far stare nell'universo creato da Matt Reeves quindi Reeves ha cercato di rendere omaggio a tutto quello che più ha caratterizzato Batman negli anni ha reso omaggio ai film di Nolan ci sono delle piccole citazioni ha reso omaggio ai film di Burton ha reso omaggio ai videogiochi della saga Batman Arkham la maggior parte degli scontri corpo a corpo che vediamo in questo film sono ripresi pari pari dai combattimenti corpo a corpo della saga degli Arkham quella videoludica e questo mi ha gasato tantissimo soprattutto Reeves è stato l'unico regista finora perché ha anche coscritto la sceneggiatura a ricordarsi che nei fumetti Batman fa una certa cosa che effettivamente nei film non li ho mai visto fare in questo modo l'ho apprezzata tantissimo costituisce una presentazione spettacolare del personaggio di Batman perché tra l'altro l'inizio proprio la prima scena mi ha stupito perché c'era stata quella polemica riguardante il fatto che il film fosse PG-13 sarà un film edulcorato sembrava un film violentissimo e invece non lo sarà a parte il fatto che non mi aspettavo assolutamente un Batman in cui ci fossero spargimenti di sangue ma quando mai nel senso Batman non ha quel tipo di violenza quindi non capisco perché la gente si fosse allarmata così tanto tanto più che se ci pensate il Cavaliere Oscuro che è un film che è piaciuto moltissimo c'erano delle scene comunque anche crude se non esplicite nonostante non fossero esplicite da un punto di vista puramente visivo per esempio la scena col Joker che fa il filmato al tizio che sta per uccidere è inquietantissima quel film era 12A cioè potevano vederlo anche i ragazzini dei 12 anni in su da soli quindi aveva un rating ancora più basso rispetto a questo di Batman e non mi sembra che la gente si sia lamentata e infatti a dimostrazione che questa cosa del PG-13 non doveva creare nessun tipo di preoccupazione abbiamo una sequenza iniziale che ha delle tinte anche quasi horror devo dire che Reeves ha deciso di darci una lettura molto più cruda rispetto a quella vista in altri Batman e infatti abbiamo un Batman che picchia come un fabbro abbiamo un enigmista che è veramente inquietantissimo e scene che vertono proprio su toni quasi horror sembra un thriller alla Fincher in alcuni momenti secondo me ci sono tante citazioni e riferimenti a Zodiac di quel regista proprio di David Fincher anche a livello di immagine a livello di immagine ha scelto questo tipo di lettura una lettura molto sporca una lettura veramente cattiva peraltro abbiamo un Batman come non si era mai visto è un Batman completamente svuotato un Batman che ha un'ossessione in mente quella di convertire Gotham City di trasformarlo in qualcosa di diverso di cambiarla di distruggere tutta la criminalità che la infesta e vediamo molto di più Batman rispetto a Bruce Wayne questa cosa è importantissima vediamo poco Bruce c'è Bruce Wayne in borghese ma poco e quando Pattinson interpreta Bruce Wayne l'aveva detto gli dà una connotazione secondo me splendida aveva detto il mio Bruce Wayne sarà un Bruce Wayne molto depresso sarà un Bruce Wayne con problemi mentali quasi è una persona completamente dissociata è una persona che non sa più vivere nella realtà e non sa più farlo senza la maschera di Batman questa cosa l'ho trovata bellissima perché effettivamente lui quando non indossa la maschera è come se non riuscisse a rapportarsi con le altre persone e questo l'ho trovato meraviglioso ma anche quando indosso il costume di Batman ti dà un effetto che io su un Batman cinematografico non avevo ancora visto ora capisco perché abbiano castato per il ruolo proprio Robert Pattinson perché io credo che loro abbiano scritto la sceneggiatura e abbiano pensato ci serve un Batman che sulle prime annunciandolo al pubblico non sembrerebbe adatto perché non è abbastanza grosso perché magari non ha il tipo di faccia giusta è proprio lì il punto Pattinson è perfetto perché il personaggio è scritto per essere un Batman estremamente tormentato sotto quella maschera sotto questo costume che a me piace tantissimo Pattinson ha questi occhi sperduti addolorati come se ti guardassero ma non ti stessero guardando veramente come se guardassero un punto oltre le cose dove c'è la sua ossessione dove c'è quella cosa che cerca e che non riesce a trovare è questo che ho adorato del Batman di Pattinson lui solo a livello espressivo secondo me è perfetto perché ha una malinconia ha quasi un senso ti dedanca come se fosse sempre perennemente spaventato sotto sotto è un Batman veramente eccezionale ora io lo so che molte persone vorrebbero sapere ma è meglio questo Batman o quello di Bale oppure ma è il miglior Batman mai fatto io trovo che ci sia un problema al momento per quanto riguarda il considerare i film esce una nuova trasposizione un personaggio che ne ha già avuto alcune in passato e subito tutti si devono aspettare la migliore in assoluto ma perché secondo me queste sono cose che ti vengono dette dal tempo secondo me è un film a livello del Cavaliero Oscuro solo che il Cavaliero Oscuro aveva quel Joker che a mio modesto parere solleva tutto il film il Joker di Legend è diventato assolutamente iconico comunque un film di 14 anni fa ragazzi abbiamo avuto molto tempo per metabolizzarlo questo magari non ha un personaggio così forte sebbene l'enigmista mi sia piaciuto molto ma ci arriviamo tra poco ma ha dalla sua una storia che per quanto mi riguarda è nettamente superiore a quella del Cavaliero Oscuro a quella di qualunque The Batman di Nolan ma anche quella The Batman di Barton a livello narrativo a livello di storia di trama secondo me questo è congegnato come non era mai successo in nessun altro film di Batman e poi ha un Pattinson che secondo me non si può neanche paragonare troppo a Christian Bale cioè qui è soggettivo puoi preferirlo ma secondo me non è che sia obiettivamente migliore è semplicemente una lettura talmente diversa che sia Bale che Pattinson hanno fatto il loro hanno dato il massimo per la lettura che andavano a interpretare ma non è che c'è un è meglio lui oggettivamente è meglio quell'altro oggettivamente sono secondo me dei Batman completamente differenti molto semplicemente non vi saprei dire quale ho preferito di due vi dico che come lettura ho preferito questa perché questo è proprio Batman fatto e finito è una reinterpretazione ma Reeves ha saputo cogliere perfettamente l'essenza del personaggio anche sul fattore non uccidere ci si sono soffermati parecchio è un Batman che evolve moltissimo inizia in un modo e lo troviamo in un modo completamente diverso alla fine della storia è una storia di formazione di Batman che peraltro lo si sa già da tempo quindi non è uno spoiler è un Batman al secondo anno di attività in tanti mi hanno chiesto Victor ma c'è tanto di anno 1 essendo un Batman al secondo anno non moltissimo citazioni anno 1 di Miller ci sono la citazione più grande risiede nell'aspetto di un personaggio c'è la Selina Kyle Catwoman interpretata da Zoe Kravitz che è fatta e finita quella di anno 1 a livello estetico e anche a livello caratteriale ha delle cose che la comunano peraltro il rapporto tra Batman e Catwoman mi è piaciuto molto perché non è un rapporto stucchevole è un rapporto secondo me che ci sta perfettamente che io personalmente ho apprezzato molto il personaggio di lei è studiato nei minimi dettagli si vede proprio che volevano renderla parte di questa grande storia è una Catwoman interessantissima è un rapporto diverso ad esempio da quello che abbiamo tra la Catwoman di Nathaway e quella di Bale è un rapporto ancora diverso qui Selina è profondamente coinvolta all'interno della storia e questa cosa l'ho trovata senza dubbio interessante l'ho apprezzata quindi mi piace peraltro Zeklavitz bravissima mi piace che abbia cercato Reeves di caratterizzare scientemente ogni singolo personaggio perché comunque abbiamo un ottimo Batman una buona Catwoman un Gordon che a me è piaciuto molto un Gordon che fa squadra con Batman sotto tanti punti di vista perché qui vediamo il Batman Detective un aspetto di questo personaggio importantissimo che non è mai stato affrontato come si deve nei film nel Cavaliero Oscuro di Nolan c'era un momento in cui lo investigava ed era fatto anche Benino devo dire però non era certamente al centro della storia diciamo che le abilità dei detective di Batman non erano la prima cosa che pensavi quando guardavi un qualunque film su Batman in nessuno dei film su questo personaggio vedevamo lui effettivamente investigare esprimendo la sua migliore qualità perché lui è il miglior detective del mondo te lo dicono venti volte nei fumetti però i fumetti sono i fumetti i film sono i film è una caratteristica importante vero però sono riusciti a fare dei film straordinari anche senza tirare in ballo quella cosa è raggiunto il momento per quanto mi riguarda che già che facevo una nuova trasposizione puntassero su un aspetto che non era mai stato trattato prima per dirvi quanto Batman sia un personaggio che ha da dare nel giro di decenni ancora si possono trarre film con lui protagonista che dicono cose diverse rispetto ai precedenti alcuni dei quali sono dei cazzo dei capolavori vedi quelli di Barton o anche il cavaliere scuola di Nolan secondo me se non capolavoro è un grande cult è sicuramente un film che è rimasto quindi Reeves ha voluto darci la sua personale versione di Batman regalandoci qualcosa che effettivamente riguardo il personaggio non era ancora stata tirata in ballo e questo Batman è un detective straordinario e effettivamente riesce a risolvere gli enigmi dell'enigmista riesce a indagare a tirare le fila delle cose che accadono secondo me è veramente spettacolare il modo in cui Reeves è riuscito a rendere il Batman detective e mi ha dato veramente le vibes alla Hush all'allungo Halloween eccetera proprio per questo perché è un Batman che investiga con il beneplacito di Gordon cioè noi vediamo anche come Gordon cerca di introdurre Batman anche i suoi colleghi e vediamo cosa ne pensa la polizia di The Batman è una cosa molto importante è un film che ti parla proprio di questo ti parla della corruzione di Gotham che è al centro di tutto in maniera diversa a come veniva fatto nel Cavaliero Scuro dove era un argomento importante certamente ti parla per l'appunto della polizia di Gotham City tra l'altro sapete che hanno annunciato due serie spin off una sul pinguino di Colin Farrell e una sul dipartimento di polizia di Gotham City dove seguiremo le vicende di un giovane poliziotto che deve confrontarsi con la corruzione dilagante ora io credo che questa cosa sia molto interessante perché vedendo questo film io ho pensato subito voglio vedere gli spin off anche perché il pinguino di Colin Farrell secondo me è stato introdotto bene c'è più di quello che avrei pensato credevo l'avremmo visto di meno invece no però effettivamente nell'economia della trama è importante ma non è il personaggio che si vede maggiormente però si vede abbastanza e quello che apprezzo del pinguino di Colin Farrell è che è veramente ben adattato cioè quando tu vai a prendere dei personaggi dei fumetti che hanno già avuto numerose trasposizioni in passato devi capire che cosa portare sullo schermo cos'è che non è ancora stato raccontato effettivamente io parlo di grande schermo lasciate stare Gotham dove il pinguino è anche un bel personaggio per amore del cielo per quanto a me la serie non piaccia non avevamo ancora visto un pinguino gangster che viene chiamato così per via del suo aspetto il trucco su Colin Farrell è mostruoso ragazzi cioè irriconoscibile se io non avessi saputo che si trattava di Colin Farrell di Colin Farrell non lo avrei mai riconosciuto neanche in cinque vite impossibile riconoscere questo attore con tutto quel trucco bravissimo io poi tra l'altro ve lo dico il film l'ho visto in lingua originale per cui non l'ho ancora visto in italiano lo guarderò lo guarderò però appunto in realtà io dico stasera perché voi vedete il film vedete il film di giovedì in realtà io il video lo sto registrando di mercoledì quindi lo vedrò giovedì sera quindi stasera per voi all'Arcadia lo riguarderò in italiano che non l'ho ancora visto in italiano in inglese il pinguino è fantastico non so come abbiano poi reso la sua voce da un punto di vista del doppiaggio ma credo che abbiano fatto un buon lavoro a giudicare delle clip e dal trailer e dai trailer però devo dirvi che il pinguino di di Colin Farrell è interessante perché ha anche un suo codice d'onore cioè proprio gangster vecchia scuola ci sta secondo me l'hanno reso bene poi ha quell'eleganza tipica di Oswald Cobblepot ha quell'eleganza particolare che vediamo anche in in città spezzata ad esempio a me questa cosa piace che vedevamo anche in Joker di Azzarello e Bermeco la graphic 9 su Joker dove c'è un pinguino molto elegante questo l'ho trovato interessante perché sono riusciti a rendere il pinguino bene preso dai fumetti e adattato come si deve per la versione cinematografica è un buon pinguino è un personaggio che vedendolo nel film ti fa pensare spero di vederne ancora e capisco perché abbiano annunciato già tempo fa questi spin off perché vedendo il film io vedo la polizia di Gotham e la corruzione che dilaga in essa quindi penso subito wow mi piacerebbe saperne di più ma noi ti abbiamo detto che c'è pronta tra un po' esce la serie ispirata a Gotham City Police Department che era una serie di fumetti Gotham Central che era una serie di fumetti ambientata dal dipartimento di polizia di Gotham City è ispirata un po' a quello quindi io penso wow figo nel senso mi è piaciuto mi è piaciuta questa tematica nel film e c'è una serie che me la svisce bene così mi piace il pinguino e scopro che c'è una serie si scopre che c'è una serie a lui dedicata benissimo cioè è un film che ti fa venire voglia di vedere espanse alcune delle cose che vedi all'interno è stato proprio fatto in maniera oculata e secondo me l'hanno realizzata veramente bene questa cosa io quando ho visto cosa stavano facendo ho pensato ecco perché le serie cazzo questa cosa l'ho adorata poi c'è un personaggio che purtroppo non sono riuscito ad apprezzare e questo mi dispiace tantissimo che è l'Alfred di Andy Serkis intendiamoci non perché Andy Serkis non sia stato bravo anzi lui è stato bravissimo è anche un Alfred estremamente interessante per quanto mi riguarda è un Alfred che aiuta attivamente Bruce Wayne e quindi Batman è un Alfred smart un Alfred che ti dà degli accenni al suo passato e ti fa capire chi era un Alfred molto più militare se vogliamo il problema gigantesco è che è un Alfred che compare troppo poco ed è caratterizzato veramente meno rispetto a quello che avrei voluto e quindi si riduce un personaggio che ha una sua funzione narrativa e una volta esaurita quella possiamo anche non mostrartelo più mi è dispiaciuto non è l'Alfred di Michael Caine per intenderci quello saggio che guidava Bruce il rapporto tra i due tra l'altro è anche abbastanza tormentato non è un rapporto affabile come al solito perché qua abbiamo un Bruce Wayne che non si sta più rapportando come si deve con le persone si sta lasciando andare completamente è depressissimo e quindi anche con Alfred non riesce a coltivare quel rapporto che io vorrei tra Bruce Wayne cioè tra lui e Bruce Wayne il problema è che il potenziale c'era c'è anche da dire questo il film ragazzi dura veramente quasi tre ore due ore e quarantasette se togliamo i titoli di coda due ore e cinquantacinque se rimaniamo fino alla fine e lo sappiamo tutti che alla fine si rimane perché la scena post credit c'è ma non è propriamente una scena post credit o meglio è una robina di pochi secondi che non ti aggiunge nulla alla trama ma è una cosa che può farvi piacere quindi magari rimanete anche se davvero una roba di tre secondi quasi inutile se non del tutto inutile però va bene così e quindi insomma mi dispiace per questo piccolo difetto il film ne ha dei difetti attenzione non è un film perfetto ad esempio Batman qui le prende tantissimo questa cosa l'ho apprezzata mi piace un Batman che è in difficoltà però gli succedono delle cose per cui secondo me si ferisce poco ci sono dei momenti in cui effettivamente ci sono delle giuste conseguenze per l'amor del cielo però forse era un po' troppo overpower in alcuni momenti e hanno forse esagerato leggermente con la sua intelligenza nel senso che va bene che intelligente è un bravo detective ma ci sono dei momenti in cui becca le cose troppo subito al primo colpo forse avrebbero dovuto magari metterlo leggermente in difficoltà ma sono minuzie per qualcuno potrebbero essere cose fastidiose per neanche tanto però c'è da dire che ad esempio la questione dei Wayne della loro morte del peso che la famiglia Wayne ha su Bruce è al centro di tutto ed è trattato molto molto bene tra l'altro se state pensando ah forse è nello stesso universo di Joker no perché ad esempio ci sono delle immagini di Thomas Wayne e non è lo stesso attore che lo interpreta in Joker quindi già solo questo vi fa capire che non sono lo stesso universo quindi tutti quelli che sperano di vedere il Joker di Phoenix nei film del Batman e Pattinson sappiate che è proprio messo in chiaro che non è per nessun motivo lo stesso mondo gli ambienti sono completamente diversi già Villa Wayne è completamente differente tra l'altro io ho apprezzato tantissimo come hanno reso più che Villa Wayne la Batcaverna a me è piaciuto un casino il fatto che la Batcaverna fosse realizzata in quel modo poi vedrete nel film perché mi ricorda molto quello che vedevamo negli Arkham per quello che ho apprezzato ci sono tante citazioni agli Arkham questo ve l'ho già detto quindi da questo punto di vista secondo me hanno fatto un buon lavoro molto 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 semplicemente poi ha ovviamente dei difettucci e quello ci si può far poco ho sentito tanti lamentarsi tra quelli che l'han visto del fatto che il film abbia un'ultima parte che è un po' troppo allungata e che è anticlimatica secondo me non è che è anticlimatica è che il film ha una cosa che è una scelta di stile può piacere come non piacere a me qui non ha dato fastidio ma ammetto che forse si poteva gestire in maniera leggermente diversa cioè sembra che tutto sia finito e invece hai ancora un bel po' i cosiddetti falsi finali no? è un po' anticlimatico è vero però devo dire che poi per come si sviluppa quello che vogliono raccontare nell'ultima parte la storia rimane interessante quindi è un pochino anticlimatico ma non poi così tanto non l'ho trovato come un difetto enorme e comunque a me le quasi tre ore non sono affatto pesate io ne avrei volute ancora e ancora e ancora perché tra l'altro è un film estremamente denso cioè non sono tre ore con parti che io avrei tolto no no tutto quello che vediamo sullo schermo è fottutamente importante tu lo vedi e dici wow questa cosa non la puoi togliere il modo in cui si sviluppa tutto l'escalation degli eventi è qualcosa che effettivamente richiedeva almeno tre ore per essere raccontata non è un racconto facile è un film molto introspettivo un film che può essere quasi definito un thriller psicologico a tratti in cui Batman è il protagonista assoluto un protagonista che soffre che vede gente soffrire che vorrebbe dare qualcosa di più al mondo e alle persone ma non riesce perché è bloccato nella sua sessione il modo in cui ci presentano Batman in questo film è qualcosa di fenomenale ragazzi e la prima scena mi ha scioccato perché non me l'aspettavo iniziasse così col botto ma poi quando c'è la presentazione di Batman io ragazzi ero allibito perché sono riusciti a raccontarti un aspetto di Batman che secondo me non riescono mai a mostrarti bene per com'è ed è una cosa che dirò una parte spoiler che a me personalmente ha fatto impazzire ero lì che dicevo minchia che introduzione qualcosa di strepitoso quindi è un film che ha tanti pregi ha anche qualche difetto per l'amor del cielo io la durata non l'ho sentita non l'ho accusata la cosa dell'ultima parte ci può stare però ad esempio io non mi aspettavo che avremmo visto così tanto un certo personaggio che ha un ruolo centrale all'interno del film e che è Carmine Falcone interpretato da John Turturro allora che John Turturro fosse un bravo attore lo sapevo non c'era bisogno che interpretasse Carmine Falcone in The Batman per accorgermene però ragazzi porca miseria era da tanto che John Turturro non rivestiva un ruolo interpretato con così tanta convinzione ma veramente veramente bravo ha interpretato un personaggio fantastico cioè questo Carmine Falcone mi è piaciuto tantissimo e ha una caratterizzazione che mi ricorda molto quella del lungo Halloween del personaggio quindi anche anche questi riferimenti mi piacciono per cui veramente bravo davvero Carmine Falcone fantastico e poi ovviamente tutti mi chiedono ma l'enigmista com'è ragazzi l'enigmista secondo me è fenomenale è un ottimo villain destinato anche lui a diventare piuttosto iconico per quanto mi riguarda sia per come l'hanno conciato che non è un costume particolarmente riconoscibile come quello dell'enigmista ma ci sta a me è piaciuto e peraltro diciamo che hanno voluto dargli una caratterizzazione un po' un po' alla show a tratti se vogliamo era inevitabile che questo accadesse in questo senso mi ha ricordato a tratti l'enigmista degli Arkham ma l'enigmista è particolare perché tra i difetti alcuni annoverano la caratterizzazione l'enigmista perché l'enigmista ha un'evoluzione che magari potrebbe non piacere a tutti a me personalmente è piaciuta la morire ma proprio tanto mi è piaciuta tantissimo certo poi ovviamente può magari far pensare ma avrei fatto diversamente il che ci sta io l'ho apprezzato Poldano è stato bravissimo tra l'altro lui è un cazzo di attorone enorme lo sappiamo è Poldano Poldano è sempre stato un bravo attore con questo ruolo lo ha dimostrato ulteriormente e credo che l'enigmista sia importantissimo in questo film perché è un villain che si contrappone perfettamente a questo Bruce Wayne certo non è un suo alter ego vero e proprio come potrebbe essere il Joker da sempre cioè il Joker è l'altra faccia della medaglia di Batman una persona che ha avuto un qualcosa che l'ha portato a diventare folle perché lui ha deciso di abbracciare la follia a un certo punto Batman è un personaggio che si è visto uccidere i genitori davanti agli occhi ma ha deciso di incanalare questa follia che stava per prenderlo in qualcosa che lo tiene a galla cioè pestare i criminali di notte quando Pattinson ha detto che il suo Bruce Wayne e il suo Batman sarebbero stati personaggi molto particolari quasi ai limiti della malattia mentale io ho pensato beh grazie è Batman è una persona che si veste a pipistrello e pesta la gente di notte tutto a posto non deve essere cioè non è diverso dal Joker nella forma nella sostanza sì perché nella sostanza lui è simile a Joker ma questo suo dolore non lo ha fatto impazzire completamente e fa qualcosa per gli altri ma è qualcosa che lo tormenta profondamente Joker invece ha abbracciato il caos è la follia ma sono due lati della stessa identica medaglia questa cosa l'ho apprezzata con l'enigmista è una cosa diversa l'enigmista è un personaggio differente ma che ha dei legami in un certo senso con la psicologia di Batman e questa cosa l'ho apprezzata ho trovato che sia un personaggio veramente ben realizzato gli enigmi sono fantastici infatti non vedo l'ora di guardarlo in italiano per vedere come hanno tradotto alcuni degli enigmi è questa la cosa che mi chiedevo ma certi enigmi come cazzo li hanno tradotti mi chiedo chi lo sa poi uno degli aspetti migliori del film è senza dubbio la colonna sonora Michael Giacchino ha fatto un lavoro straordinario con la colonna sonora di The Batman l'abbiamo sentita tutta si poteva già sentire negli ultimi giorni su Spotify però un conto è sentirla così un conto è vederla cioè sentirla abbinata alle immagini allora è vero che la colonna sonora dei la colonna sonora il tema di The Batman si sente forse un po' troppo spesso però ragazzi quanto caso ogni volta che compara The Batman con questo Requiem che è fantastico è bellissimo poi hanno utilizzato anche il pezzo di Nirvana che si sente nel trailer benissimo tra l'altro l'hanno utilizzato molto bene io l'ho apprezzato poi con questo riarrangiamento ho fatto molto bene dal mio modesto punto di vista a livello musicale ma anche tecnico hanno fatto veramente qualcosa di grandioso la regia di Reeves è ottima le scene action sono perfettamente dosate ed equilibrate io non ho trovato il film lento come qualcuno ha detto è bello ma lento secondo me non è lento si prende il suo tempo ma non lo definirei lento perché comunque ha anche delle scene d'azione movimentate il ritmo comunque è incalzante cioè alla faccia del lento ha un ritmo incalzantissimo non ti dà un attimo di respiro sono tre ore dense pam 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 prendi qui vai da quella parte vai in da gare su quello vai in da gare su quell'altro oh no ci sono i tizi pestiamoli raga è bello movimentato come film e le scene action secondo me sono girate benissimo soprattutto quelle con la batmobile mi hanno chiesto ma la batmobile com'è è perfetta per questo batman perfetta per questo batman una batmobile secondo me pseudo realistica fatta molto bene che però è la batmobile e la usa come dovrebbe essere usata la batmobile c'è una scena in particolare quella che vedete nel trailer l'inseguimento col pinguino che è molto lunga e che secondo me è girata con una maestria incredibile Reeves ha saputo abbinare una regia oculatissima una regia che dà spazio ai personaggi dà spazio alle scene action te le rende tutte completamente comprensibili non ti perdi un secondo a una regia che può essere accettata perfettamente da un pubblico mainstream lui è bravissimo a fare queste due cose a prendere un film farlo di qualità dargli un tono autoriale metterci se stesso dargli comunque un tono particolare ma rendano allo stesso tempo perfetto per il grandissimo pubblico è la grande abilità il grande talento di Matt Reeves lui questo sa fare e secondo me è un'abilità incredibile quando ti approcci a franchise di questo tipo per cui io sono rimasto sinceramente colpito da quello che ho visto in questo in questo film da un punto di vista registrico la fotografia è fantastica giocata sempre sui toni del rosso e del nero poi non è che il film sia tutto con le luci rosse e nere per l'amor del cielo però sono i colori portanti se vogliamo e ho anche apprezzato tantissimo il fatto che abbiano voluto valorizzare Gotham City una Gotham sporca marcia una Gotham che vediamo è sempre nei suoi infratti più oscuri è un film che ha delle scene ambientate di giorno ma anche le scene ambientate di giorno sono con il cielo nuvoloso una luce pallida per lo più il film è oscuro ed è ambientato di notte per la maggior parte del tempo perché comunque Batman è attivo quando cara la notte anche se non disdegna l'andare in attività anche di giorno se c'è bisogno e qui è una cosa interessante questo è un Batman chiaramente è un Batman chiaramente devastato dentro quindi è quasi sempre Batman quando io prima ho detto che si vede di più Batman di Bruce Wayne è perché Bruce Wayne rimane molto poco senza il costume come se Bruce Wayne stesse lentamente svanendo per lasciare posto solo a Batman e c'erano un paio di storie c'era una storia in cui quella in cui moriva se non sbaglio Damian Wayne poi sapete che le morti nei fumetti sono sempre tipo temporane però vabbè quando succedono i personaggi pensano sempre che sia definitiva è ovvio io mi chiedo come mai i personaggi non dicono ma sì tanto tra un po' torna ma sempre ho fatto ridere questa cosa però vabbè quando moriva Damian Wayne Batman praticamente era come se impazzisse iniziava a essere Batman sempre era attivo sia di giorno che di notte e la gente iniziava ad avere paura di lui perché lo vedevano sempre e non si regolava col menare quindi mi ricorda quella cosa lì mi ricorda quella cosa lì perché qua abbiamo un Batman che è quasi sempre è come se Batman avesse preso il sopravvento come personalità di Bruce Wayne e a un certo punto non si regola neanche più lui con il menare cioè il modo in cui mena è rabbioso non è il Batman giustiziere che sa quando fermarsi questo è un Batman che ancora è acerbo ancora non ha capito bene che tipo di percorso vuole intraprendere come eroe di Gotham questa cosa l'ho trovata geniale perché comunque un Batman così fuori non l'aveva ancora visto ma è comunque un Batman che è mosso da un forte senso della giustizia ma come vedete nel trailer lui si autodefinisce vendetta quindi io credo che questa presunta trilogia perché è ovvio che vogliamo fare una trilogia loro l'hanno detto il film è autoconclusivo ed è vero il film è effettivamente autoconclusivo nel senso che lascia delle questioni aperte però la storia finisce ti fa capire che ci possono essere dei seguiti però la storia che ti racconta qui si conclude è logico che se il film in Cassabene credo lo farà si andrà a vederlo in tanti e quindi faranno un seguito faranno un seguito sono convinto di questo e la cosa interessante è per l'appunto che è vero che vogliamo fare il seguito è tutto ma credo che in ogni film vedremo un aspetto diverso di questo Batman di crescita qui è il Batman della vendetta nel prossimo secondo me sarà il Batman della giustizia o della speranza in un certo senso vedremo sta di fatto che per quanto mi riguarda Reeves ha fatto un lavorone è un film che sicuramente poteva essere migliorato sotto alcuni punti di vista potevano gestire in maniera diversa il finale più che il finale la parte finale potevano gestire molto meglio Alfred potevano secondo me dare un attimino più di spazio a Gordon verso la fine che secondo me Gordon qua il problema di Gordon è che non ho visto la crescita che avevo visto ad esempio nel Gordon di Old Man film dopo film perché credo che qui Gordon abbia proprio la funzione di supporto tipica dei fumetti quindi è un personaggio che è abbastanza ben caratterizzato Jeffrey Wright bravissimo mi piace come interagisce con Batman ma non è il focus non è su di lui come era nei film di Nolan perché Nolan aveva un discorso suo su Gordon che era quasi un coprotagonista a un certo punto qua Gordon c'è tanto è importante ma la sua importanza è nel far risaltare Batman come detective perché lo aiuta in un certo senso ad accedere a certe aree e quant'altro mi è piaciuto comunque come cosa ci sono dei piccoli difetti per l'amor del cielo però non sono tanti a tali da farmi pensare ma sto film poteva essere meglio per me è già comunque bellissimo così com'è penso che in futuro eventualmente aggiusteranno il tiro ma ora come ora io sono soddisfattissimo da questo Batman cioè per me è una cosa fantastica io non vedo l'ora di vedere di vedere altri film con questo Batman di Pattinson perché c'è proprio un'interazione con i personaggi un modo di di panare una storia che ha dei momenti che sono fenomenali che secondo me è davvero ben congegnato io ho apprezzato grandemente il modo in cui Matt Reeves ha pensato questo Batman e l'è riuscito a metterlo in scena poi ci sono delle cose bellissime di cui vi parlerò nella parte spoiler per non fare per non rovinarvi per appunto la visione sappiate che è un film che va assolutamente visto peraltro tutta una parte sul finale mi è piaciuta perché denota una certa crescita da parte dei personaggi ma in realtà è una parte di tutti i personaggi tutti i personaggi hanno la loro evoluzione ben definita a parte Alfred che a me non è affatto dispiaciuta l'ho trovata interessante e e poi ecco per quanto riguarda le scene action devo dire che mi sono sorpreso nel vedere che non fossero tantissime però vacca miseria quelle che ci sono quanto sono state pensate bene cioè davvero questo film alla fine è un po' come erano stati i due film su pianeta delle scimmie diretti da Reeves dei film pensati per un pubblico grandissimo ma in cui ci sono delle riflessioni qua ci sono tanti spunti di riflessione perché qui comunque a un certo punto la battaglia tra l'enigmista e Batman diventa psicologica cioè tu l'enigmista non lo vedi tantissimo in scena lo vedi magari negli schermi però non è che lo vedi tantissimo in scena per tutta la prima parte del film quindi la sua presenza è costante è qualcuno che ti bracca da lontano lui è sempre lì ma non lo vedi questa cosa è bellissima cioè io l'ho trovata fenomenale perché lui dice oh cazzo ma come ha fatto a farlo così inquietante l'enigmista senza contare che ci sono tante scene come ho detto prima che vertono sui dettoni quasi horror a livello di messa in scena io quando vedevo queste cose dicevo ma com'è possibile cazzo non avevo mai visto un Batman quasi horror per modo di dire però è bella come cosa gli amanti del fumetto saranno contenti perché veramente è proprio l'atmosfera dark gotica in un certo senso dei fumetti di Batman che prende vita come non l'aveva mai fatto prima perché è diversa da quella troppo fumettosa di Barton poi troppo fumettosa molto fumettosa perché non è mai troppo ma è quella se la piaceva diversa da quella realistica di Nolan non c'entra niente con l'atmosfera del Batman di Snyder e è una cosa tutta nuova è una cosa fatta in un certo modo io ero lì che dicevo ragazzi ma boh ma come hanno fatto a fare una cosa fatta così bene per cui io sono troppo troppo contento anche per Pattinson che per me è stato un Batman davvero eccezionale si vede che ci ha creduto tanto si vede che Matt Reeves ha scritto la sceneggiatura in modo che lui potesse dare il meglio di sé e credo abbiano lavorato molto bene assieme come regista e attore perché davvero si vede l'impegno da parte di entrambi nel cercare di dare al pubblico qualcosa che non era mai stato dato in questo modo prima e io apprezzo non posso che apprezzare quando vedo una cosa del genere non posso che dire wow hanno fatto veramente qualcosa di grandioso quindi un ottimo secondo me rilancio per il personaggio di Batman un ottimo modo per rendere questo personaggio ancora una volta iconico con una storia completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati quindi qualcosina da sistemare volendo ci sarebbe poi nella parte di spazio vi dirò meglio ad esempio nel rapporto tra Batman tra Bruce Wayne e Selina ci sono un paio di cosine mi piace come rapporto però ci sono un paio di cosine che avrei evitato a livello di cliché però poi comunque il rapporto tra i due rimane sicuramente interessante lei gli hanno dato proprio delle cose che anche a livello di caratterizzazioni sono un paio di cosine che mi hanno ricordato veramente tanto anno 1 devo essere sincero per quanto poi il personaggio prenda una strada completamente diversa però mi piace il fatto di percepire che chi ci ha lavorato ha letto i fumetti e sapeva come fare apprendere alcune cose metterle sullo schermo e renderle in un certo modo per cui io non ho molto altro da dire nella parte generica se non andate a vedere questo film e speritene non aspettatevi un grande capolavoro aspettatevi un ottimo film su Batman poi tirerete voi le vostre conclusioni alla fine della visione vi renderete conto che certe cose si potevano magari realizzare in altra maniera ma che nel complesso è un film che funziona molto peraltro ha un buon epilogo secondo me a livello di messa in scena realizzato molto bene e ha un paio di scene che mi hanno fatto saltare sulla sedia per vari motivi capirete poi guardando il film nel senso che secondo me anche a livello di trama e di storia è molto composito è molto non complesso però non ho mai visto un Batman con una trama così tanto ben strutturata così intricata con cose da scoprire perché è la trama di un thriller giallo di fatto è questo è sviluppato come un thriller perché è una storia investigativa di Batman che mai si era vista in questo modo sullo schermo eccezione fatta per i film animati quindi vi divertirete a trovare tutti i riferimenti vi divertirete a vedere come hanno caratterizzato certi personaggi a vedere quale citazione corrisponde a una certa scena vedrete io sono convinto a molti di voi piacerà poi arriveranno anche i detrattori quelli che questo film non lo sopporteranno molto per l'amor di dio ma secondo me tutto quello che poteva mettere paura è andato bene Pattinson è stato un Batman fantastico ragazzi Pattinson sono anni che doveva dimostrare che lui è diventato nel frattempo dopo Twilight un attore bravissimo ma non aveva ancora trovato il film mainstream che lo fosse presso il pubblico che dimostrasse al pubblico generalista che lui è cambiato adesso il pubblico generalista lo sa perché in Tenet secondo me non l'aveva ancora fatto più di tanto perché in Tenet si era bravo ma non aveva espresso la sua bravura in questo film porca puttana la bravura di Pattinson emerge con una certa prepotenza quindi secondo me è un film che per Pattinson sarà decisivo anche per la sua carriera perché già faceva i film adesso secondo me andrà ancora più in alto quindi molti dicevano eh mi fa un po' paura Cattuno di Zev Kravitz ci sta tantissimo l'enigmista è perfetto a parte qualche sbavatura devo dire che il film funziona alla stragrande detto questo io vi abbraccio vi ringrazio vi sono dilungato tantissimo nella parte non spoiler e per questo vi chiedo infinitamente scusa adesso vi saluto se non avete visto il film quindi se non volete sapere il mio film specifico perché non volete spoiler noi ci vediamo al prossimo vlog se invece siete tra quelli che film l'hanno già visto gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora ragazzi iniziamo con il dire che per me è stato un dolore dover cercare per tutta la parte non spoiler di non fare il minimo riferimento al fatto che ci fosse Barry Keoghan nel film qualche giorno fa avevano licato il testo completo dei titoli di coda del film non ho capito come abbiano fatto è un leak abbastanza bizzarro e vi posso confermare che sì erano giusti perché c'era tutto quello che c'era scritto in quel testo e Barry Keoghan era accreditato come Unseen Arkham Prisoner tutti avevano pensato ma è veramente il Joker perché correva voce che ci fosse Barry Keoghan nel film alcuni rumor avevano detto che Barry Keoghan aveva interpretato un giovane poliziotto che nei film successivi sarebbe potuto diventare effettivamente il Joker altri dicevano no non è vero non c'è Barry Keoghan nel film poi arrivano questi titoli c'è un giovane che ho detto Unseen Arkham Prisoner ha detto ma vuoi vedere che e poi c'è questa scena con Poldano con l'enigmista ad Arkham e quest'altro prigioniero che inizia a dire no ma tu sei stato fantastico non preoccuparti sai come si dice no a volte puoi diventare un clown e io ho detto oh mio dio poi fanno vedere che hai i denti sulle guance nel senso che si vedono i denti sulle guance come se avesse la pelle lacerata che li mostra hanno introdotto il Joker ragazzi è ovvio non c'è bisogno che te lo dicano che vengono lì a dirti oh guarda che quello è il Joker si capisce è ovvio e io sinceramente sono dell'idea che no il Joker non ha rotto il cazzo d'altronde se tu vuoi fare veramente una trilogia su Batman non puoi non passare da lui devi per forza e mi piace questa scena finale con enigmista Joker che ridono che ti promette un'alleanza tra loro tra l'altro come vi ho detto prima alcuni potrebbero non apprezzare la caratterizzazione che ha avuto l'enigmista perché inizialmente sembra più lucido folle che folle basta quando poi arriva il falso finale perché a un certo punto c'è quella parte in cui lui viene arrestato tu pensi che il film stia volgendo al termine in realtà scopri che lui è veramente pazzo scocciato proprio furioso e ha architettato un piano che è l'ultima parte del film ecco lì io non avrei portato a una sorta di falso finale ma avrei portato direttamente a degli indizi che rendessero come finale vero e proprio quella cosa che succede con Arkham che viene inondata mi piace molto tra l'altro l'idea che inondino Arkham mi ha ricordato molto quello che accadere in Batman Begins con l'isola di Narrows che andava perduta per via del gas dello spaventapasseri quindi mi piace questo finale che ti dà un filo di speranza ma è un finale crudo duro in cui Batman in questa devastazione dice che lui non vuole più essere vendetta perché questa città ha bisogno di speranza quindi cambia proprio il modo in cui vede le cose e si mette ad aiutare le persone direttamente non solo indirettamente punendo i criminali questa cosa mi è piaciuta tantissimo però per l'appunto vediamo un enigmista che è completamente folle un enigmista che allora diciamo io avevo ipotizzato che l'enigmista che l'enigmista dessero la storia di Ash non ci sono andato molto lontano perché sì non è propriamente Ash ma è un adattamento cinematografico di quella che era la storia di Ash nel senso che lui era un bambino orfano si parlava di questo renewal il rinnovamento no? si parlava di questo rinnovamento che avrebbe dovuto dare nuovo lustro alla città che in realtà è diventato solo un modo per ingozzare ancora di più i criminali e i potenti corrotti e quindi questo bambino in orfanotrofio che attendeva gli aiuti promessi al rinnovo dal renewal è rimasto in orfanotrofio ha sviluppato evidentemente problemi psichiatrici e ce l'aveva con Bruce Wayne perché diceva tutti a dire l'orfano il povero Bruce Wayne il povero orfano ma lui non sapeva cos'era cos'è essere un orfano vivere in una villa con la torre non è non è essere orfani prova a stare in un orfanotrofio dove ogni anno d'inverno un bambino almeno moriva per via del freddo che ti svegliavi urlando con i topi che ti mordevano le dita ecco questa cosa mi è piaciuta perché non è propriamente quello che vedevamo in Batman Ash ma è una rielaborazione non sono stati propriamente bambini insieme ma erano bambini nello stesso periodo e lui era ossessionato da Bruce Wayne perché Bruce Wayne era diventato il centro dell'informazione mediatica perché era un orfano ricco e quindi lui a un certo punto ha voluto punire Gotham i Wayne e tutti per quello che era successo questa cosa mi è piaciuta un sacco poi nella parte non spoiler non ho voluto dirlo perché volevo che lo scopriste voi ma non vediamo mai la morte dei Wayne vediamo Thomas Wayne in alcune in alcuni filmati di repertorio quando voleva candidarsi a sindaco ma non non è fondamentalmente fondamentalmente non è non c'è la classica scena di loro che muoiono e io ringrazio per questo perché l'abbiamo vista talmente tante volte che ormai stavo quasi perdendo di significato sono contentissimo che i Wayne abbiano avuto un ruolo centrale perché perché ti diceva che Thomas Wayne a un certo punto aveva dovuto operare Falcone che si era presentato a casa sua con un colpo al petto e poi aveva cercato di riscuotere un favore per mettere a tacere un reporter che voleva raccontare durante la campagna elettorale della malattia mentale della madre che era Martha Arkham che faceva parte della famiglia degli Arkham quelli dell'Arkham Asylum e Falcone aveva ammazzato questo giornalista questo reporter ma lui Thomas Wayne non pensava che Falcone l'avrebbe ammazzato è stato il suo errore lo dice Alfred a un certo punto l'errore di suo padre fu non capire di cosa fosse capace effettivamente Carmine Falcone e quindi lui si è distrutto nel dolore per aver causato la morte di una persona lui non pensava che questo l'avrebbe ammazzato e che voleva solo proteggere la madre da quello che questo reporter poteva fare che pare fosse pagato si dice da Maroni lo diceva Falcone ma Falcone è un bugiardo di merda per l'appunto per screditare i Wayne e anche Falcone che era diciamo sembrava essere amico di Thomas Wayne in realtà non era proprio così peraltro Falcone per me è un personaggione mi piace tantissimo perché alla fine è il villain principale cioè è il motivo per cui l'enegmista fa tutto questo cioè l'enegmista senza Carmine Falcone non sarebbe diventato l'enegmista perché è Falcone che ha preso i fondi del renewal per ridistribuirli e fondamentalmente farne la fonte di tutte le mazzette e le tangenti di Gotham negli anni successivi quando poi lo vediamo veramente nella sua cattiveria un manipolatore che cerca di distruggere il ricordo che Bruce ha del padre l'unica cosa che lo portava ancora avanti perché lui faceva tutto questo per i genitori nel momento in cui viene ventilata la notizia la possibilità che il reporter peraltro il reporter nel video che fa l'enegmista dice ha cercato di zittire il reporter viene fuori la scritta hash cioè proprio la citazione hash è per quello che gli ho detto un po' lui è hash non è propriamente quello non cerca di rifarsi la faccia come Bruce Wayne ma secondo me ha un po' di background simile a hash è la cosa più simile a hash che abbiamo visto al cinema finora e quindi a un certo punto a Bruce Wayne sta crollando il mondo in testa perché lui dice porca puttana io ho fatto tutto questo per i miei genitori ho fatto tutto quello che potevo per cercare di mantenere la sanità mentale senza riuscirci molto ho cercato di rendere questa città migliore l'ho fatto per i miei genitori vengo a sapere che Thomas Wayne era amico di Falcone e ha fatto ammazzare un tizio gli stava crollando cioè tutto quello che aveva fatto fino a quel momento stava iniziando a perdere di significato per Bruce Bruce c'è rimasto malissimo quando scopre questa cosa poi c'è anche questa cosa molto interessante di Catwoman che è una cosa che anche in alcune versioni di fumetti c'era che lei è la figlia di Carmine Falcone una figlia illegittima da lui mai realmente riconosciuta quella cosa l'ho adorata perché dà un motivo di vendetta al personaggio peraltro lei sembra avere una relazione comunque con Vino si è capito se ha proprio una relazione se sono sua amica con questa ragazza lussa Annika che è palesemente una versione rivisitata di Holly che era l'amichetta un po' svampita che lei aveva in anno 1 e questa è proprio la Catwoman esteticamente di anno 1 e anche a livello caratteriale non ci va molto lontano e c'è questo momento bellissimo di lei che sta per ammazzare Falcone sta per ammazzare in realtà questo poliziotto che aveva causato la morte di Annika di questa sua amica barra partner lei sta per ammazzarlo Bruce le toglie la pistola e dice non così se tu lo farai se tu cederai a questo impulso te ne pentirai per il resto della tua vita è qualcosa che ti divorerà da dentro non puoi cedere all'impulso lui dice tanto di essere vendette e quant'altro ma allo stesso tempo non vuole uccidere ma si rende perfettamente conto di quanto effettivamente lui sia violento alla fine lui sta quasi per morire gira questa gira questa sorta di di congegno che è una iniezione di adrenalina lui rinsavisce all'improvviso e inizia a pestare come un maniscalco solo che arriva a guarda dice oh buono fermo fermo lui si rende perfettamente conto che stava per ammazzare questo tizio è vero che c'era l'adrenalina eccetera ma lui si rende conto di quello che sta diventando quando chiedono a questo tizio che era uno degli scagnozzi che si vestivano come lui alla fine che avevano andato alla città e volevano sparare sulla folla lui questo tizio dice io sono vendetta e Batman lo guarda e dice oddio è quello che dico io ma io sono diventato questo lì è proprio la presa di coscienza quindi io sono diventato questo perché tra l'altro il film inizia con l'enigmista che va dal sindaco lo vedi nascosto nell'ombra tra l'altro con quel jumpscare che non me l'aspettavo e quando il sindaco è di spallo gli arriva da dietro lo fa girare il sindaco ha la pena il tempo di capire cosa sta per succedere e lo ammazza con questo scalpello che serve per piazzare le moquette ma brutalissimo bam 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 e poi lo scoccia io ci sono rimasto male ho detto madonna ma è brutalissimo questo è brutale poi arriva diciamo la presentazione di Batman con finalmente cazzo quello che dicevo prima la voce narrante del cazzo di Bruce Wayne finalmente in Batman c'è sempre il quadro bianco con la didascalia che è ciò che Bruce Wayne sta pensando lo fanno anche con Gordon nei fumetti quello hanno fatto solo con Batman è lui che tiene un dirario cioè in sostanza sentiamo la sua molto noir come cosa sentiamo la sua voce vediamo lui che scrive nel diario per il secondo anno di attività spiega e spiega che da poco hanno attivato il bat segnale e dice quel segnale non serve solo a me ma serve anche ai criminali per spaventarsi ci fanno vedere vari criminali uno che sta alcuni che stanno imbrattando dei muri di una struttura antica con la bomboletta un altro che sta rapinando un mini market altri che vogliono pestare un tizio metropolitana e tu ti chiedi ti farà vedere Batman che mena tutti questi no sono quelli della metropolitana che sono quelli con la faccia di pinta perché è Halloween il sindaco viene ucciso da Halloween quindi da qui è un grande riferimento a lungo Halloween quindi cosa succede? succede che a un certo punto noi vediamo che quando tutti cioè la musica quella con la suona quella bam bam vediamo tutti questi criminali che vedono il bat segnale e si spaventano e scappano e alcuni di questi hanno paura di vedere Batman sbuccare all'ombra infatti succede esattamente questo questa cosa l'ho trovata fantastica mi è piaciuto un sacco perché ti mostra la paura che Batman incute ai criminali come non era mai stata mostrata prima il bat segnale non è solo un modo per attirare Batman da Gordon ma è anche un modo per far capire che Batman sta vigilando e quindi ogni criminale di Gotham si chiede ma lo avranno acceso perché mi hanno scoperto? e quindi vedi questi criminali che tornano sui loro passi spaventati a morte perché hanno paura di vederlo uscire dall'ombra e la scena in cui lui viene presentato esce dall'ombra e peste come un maniscalco questi qua con la faccia dipinta è bellissima perché ti fa capire che lui è ancora fuori controllo non è il Batman del finale che dice io non voglio più essere vendetta questa città ha bisogno di una speranza mi è piaciuto da morire e la trama è bella perché è molto intricata prima non capisci se c'entra Falcone poi scopri che in realtà Falcone era dietro a tutto ma poi Batman porta Falcone lo arresta bellissima scena in cui lo arrestano e lui dice ma non lo sapete che voi giubbe blu lavorate per me e c'è Gordon che apre la porta e dice beh evidentemente non tutti con tutti i poliziotti fuori che lo aspettano quella scena è fantastica e poi Falcone viene ammazzato perché? perché l'enigmista ha fatto sì che Batman facesse quello che voleva lui a un certo punto quando è Arkham l'enigmista dice io e te siamo uguali senza di te io non sarei riuscito a fare quello che ho fatto lui ha non è che ha usato Batman ha cercato di far sì che Batman diventasse suo complice perché lui era convinto di avere qualcosa in comune con lui e quindi era convinto che insieme avrebbero potuto devastare Gotham e darle quello che si meritava l'enigmista sentiva Batman come a fine tu mi hai ispirato ed è qui che Batman inizia a rendersi conto che la sua presenza sta iniziando a far impazzire le persone persone che prima non avrebbero mai deciso di uscire allo scoperto per fare quello che vediamo che fa l'enigmista hanno iniziato a farlo e adesso ci sarà anche il Joker tra l'altro che Joker sarà? sarà un Joker caduto nell'acido un Joker più realistico secondo me per come ti mostrano tutto c'è spazio per un Joker caduto nell'acido perché contrariamente a quello che avrei creduto è molto più fumettistico di quello che si potrebbe cioè è molto più fumettistico c'è spazio per personaggi come Joker assolutamente come il Joker caduto nell'acido però c'è assolutamente spazio quindi questa cosa l'apprezzo ho adorato le scene d'azione anche la cosa del pinguino che è un galoppino di Falcone ma in realtà ne vuole approfittare per fare carriera quando si scopre che era Falcone la spia e lo stanno portando fuori dal club c'è Falcone che dice c'è il pinguino che dice mi fai schifo spia maledetta e Falcone dice oh Oz ti senti potente stai diventando potente e lui dice e se anche fosse e alla fine quando c'è Batman che parla e dice la città bisogna speranza noi vediamo un focus su tutti i personaggi tra cui anche il pinguino che guarda dalla finestra una scena che c'è anche nel trailer e ti fa capire che lui ha compreso che vuole il potere che quindi ci sarà la lotta per il potere dopo il vuoto lasciato dalla morte di Falcone quindi trovo che ci siano tante cose estremamente interessanti che che si possono sviluppare in eventuali nuovi film ma già in questo poi la scena che vi avevo detto che c'era la sigilla che mi faceva impazzire era l'inondazione la scena dell'inondazione mi ha fatto impazzire ma bellissimo lui che deve combattere contro questi pazzi furiosi vestiti ed enigmista che vorrebbero ammazzare tutta la gente e che poi si butta si tuffa nell'acqua dalla struttura sopraelevata per andare a salvare il nuovo sindaco e tutte le persone che si potevano salvare cioè lui rinuncia al cercare di malmenare tutti i criminali che ci sono lì perché pensa che la città deve essere aiutata anche in un altro modo quindi mi piace come cosa l'ho apprezzata peraltro c'è una scena in particolare che ho trovato interessantissima ovvero quando Alfred sta trovando la bomba che l'inondista ha mandato e tu pensi che il montaggio ti mostri una scena in contemporanea è con Bruce che sta cercando di andare da Alfred perché il rapporto tra Alfred e Bruce è tormentato Bruce continua a dire tu non sei mio padre perché in un certo senso è ostile verso Alfred perché Alfred lo vuole riportare alla realtà ha visto che si sta distruggendo e sta cercando di farlo in tutti i modi ma non riesce però Bruce è affezionato a Alfred quando Alfred trova la bomba tu pensi sta succedendo lui chiama la domestica e dice sta per succedere qualcosa di terribile e la domestica Doli dice veramente padron Bruce è già successa un'ora fa e tu scopri che quella scena che hai visto che sembrava un montaggio alternato in realtà è una cosa già successa prima questa cosa l'ho trovata geniale mi è piaciuta molto poi Alfred ovviamente non muore sopravvive c'era a dire che ad esempio e lì c'è poi tutta la scena con Alfred che dice per l'appunto no guarda guardi padron Bruce che ha capito male suo padre non era in combutta con Falcone e gli spiega tutto quanto come vi ho detto prima uno dei difetti è il fatto che effettivamente un pochino Batman le prende sonore e non si fa sempre male come dovrebbe farsene l'avrei preferito vedere più volte in mezzo mezzo morto in uno dei suoi rifugi però vabbè non si può avere tutta la vita però è un film che veramente mi ha mi ha dato delle vibes incredibili io ero lì che pensavo caspita certo che ne hanno fatte di cose interessanti in questo in questo film comunque se ci pensate perché ci hanno dato un falcone strepitoso un Gordon ecco Gordon mi è piaciuto come dicevo nella parte non spoiler questo Gordon non è approfondito a livello psicologico come quello di Nolan però è proprio il Gordon dei fumetti con primario quello che aiuta Batman la scena iniziale con lui che porta Batman sulla scena del crimine mi ha stranito ma come ma così però effettivamente è resa più realistica dagli altri poliziotti che dicono Gordon ma che cazzo stai facendo sei impazzito ma non lo vi mi ha mai portato sto scemo però in realtà lui si dimostra molto molto più bravo dei detective che sono lì cioè il bello che lui il bello è che lui sia più detective dei detective veri di quelli della polizia quindi tutta questa scena con Gordon che se lo porta dietro che che lo fa investigare sarebbe stata inverosimile se non fosse che Gordon viene costantemente redarguito dai suoi superiori per questo fatto che si porta dietro Batman sulla scena del crimine e poi anche i poliziotti piano piano iniziano a stimare un po' di più Batman quando vedono che riesce a risolvere effettivamente la situazione lo invidiano anche un po' però mi piace che c'è quel poliziotto con un po' antipatico che dice ah io non mi fido non mi fido che alla fine gli dà gli dà il là per l'intuizione perché lui dice certo che è brutto ammazzare una persona con un attrezzo per posizionare le moquette e Batman dice in che senso è mio zio è un installatore di moquette quello è lo scalpello che usano per le moquette e da lì Batman tira via la moquette e scopre il piano finale dell'enigmista che peraltro l'enigmista viene diciamo rallegrato da Joker perché lui è triste perché il suo piano non è andato a buon fine e questa alleanza finale mi ha messo i brividi sinceramente l'ho trovata spettacolare quindi sì è un film che sicuramente ha dei suoi lati d'ombra niente da dire però come storia su Batman è fantastica è una storia di formazione che mette Batman al centro di tutto l'ho trovata veramente interessante soprattutto a me piace anche la scena in cui lui si trova in cui scoppia la bomba lui si sveglia e trova i poliziotti che stanno cercando di smascherarlo quella scena è fantastica quella scena mi ha fatto pensare wow perché effettivamente cosa avrebbero potuto fare i poliziotti avrebbero potuto mascherarlo anche la scena la scena del funerale quella con la cosa della bomba l'enigmista che è in live su Instagram anche il fatto che l'enigmista usi followers è una roba molto attuale il fatto che lui si cerchi seguaci spostati come lui sul web è attualissima mi piace come hanno attualizzato la cosa tra l'altro anche la cosa degli enigmi gli enigmi sono fantastici anche questo l'enigma del capo del commissario di Pitt quello che non ti spiegano bene come era ma ti fa capire che un congegno la so con i topi che gli mangiano la faccia cioè effettivamente ha un po' di solo enigmista a tratti così come anche la cosa della bomba la cosa di fare domande al consul al procuratore quella roba è fantastica quindi ha veramente delle scene che mi sono rimaste anche la cosa del ratalada.com il fatto che fosse era un indizio nascosto nell'indizio questa cosa mi era piaciuta un sacco il fatto che l'enigmista abbia questa sistematicità completamente folle nel mettere questi indizi io l'ho trovato veramente un personaggio scritto bene l'enigmista l'ho apprezzato l'ho trovato interessante io sono dell'idea che davvero Matt Reeves abbia avuto una lettura dei personaggi veramente incredibile poi tutta la scena dell'inseguimento del pinguino ma quanto è girata bene con la Batmobile che per me funziona la stragrande con lui che hai visto dal punto di vista del pinguino al contrario con la musica che arriva come vediamo nel trailer lui sotto sopra che gli arriva vicino io veramente non ho parole io l'ho trovato ho trovato che ci siano delle degli inserimenti proprio anche citazionistici perfetti la cosa di Falcone come nel lungo Halloween che l'avevano sparato e Wayne lo aveva operato raga è fatto troppo bene tutta questa cosa dell'eroghista che ricorda molto la storia di Ash il fatto che ci sia lui che investiga interroga i vari testimoni è bellissimo è tutto strepitoso io l'ho trovato veramente bello al netto dei difetti che già sapete secondo me hanno fatto veramente qualcosa di grandioso detto questo questo è ciò che mi aveva colpito molto da un punto di vista degli spoiler di questo film su Batman fate sapere cosa ne pensate mi raccomando se fate spoiler contrastate questo commento così non roviniamo il film che non l'ha visto io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie Nese che tu fai qui e noi ci vediamo al prossimo muoviblog ciao a tutti